Questa sera alle 20.50 appuntamento con tutta Atalanta. Il tema della puntata sarà la partita di ieri contro l'Inter. Prima però scopriamo insieme la promozione di questo mese di Italian Optic. Nei centri Italian Optic puoi scoprire le nuove collezioni delle montature da sole e da vista, effettuare un controllo della vista approfondito e rigenerare il tuo occhiale, grazie al laboratorio specializzato. Inoltre per tutto il mese in tutti i negozi del gruppo è attiva la nuova Promo Family. Fino al 30 aprile nei centri Italian Optic, accompagnato da un familiare e acquistando due occhiali da vista completi di lenti, ne pagherai soltanto uno. Il meno caro infatti sarà in omaggio. Trovate i centri Italian Optic solo ad Albino, Curno, Fontanella, Sarnico, Trescore Balneario, Brescia, Rezzato e Milano. Segui la talpa!